La moda al servizio della natura. Dai 58 cerchi d'oro che da due anni abbracciano simbolicamente e visivamente gli alberi di Piazza Verga a Catania di fronte al comando provinciale dei Carabinieri alle modelle che giovedì prossimo alle 19 saranno un vero e proprio esercito di bellezza vestite dai talentuosi stilisti studenti della docente dell'Accademia di Belle Arti di Catania Liliana Nigro. Un inno al bello, una catarsi spirituale spiega Stamani il fautore dell'iniziativa Claudio Arezzo di Trifiletti che proprio due anni fa lanciò un grido d'allarme per la città e per la sua natura martoriata adornando questi fusti di anelli dorati. Vogliamo un domani a misura d'uomo in un periodo difficile come quello che la nostra società sta attraversando spiegano Stamani i due organizzatori della performance artistica. Proprio a Piazza Verga, nel cuore pulsante di questa città metropolitana, la nostra Catania Claudio ha cinto questi alberi con un cerchio d'oro, gli alberi sono esattamente 58 perché l'oro, perché questo circoncidere e abbracciare gli alberi, questo ve lo dirà lui intanto io vi dico il nostro intervento, come docente dell'Accademia di Belle Arti di Catania io insieme ai miei 70 stilisti, che saranno all'incirca 70, forse un po' di più coinvolti in questa manifestazione e abbiamo deciso di portare 70 vestali, 70 ragazze che indosseranno degli abiti incredibili realizzati dai miei allievi per abbracciare fisicamente questi alberi questi alberi perché possano rappresentare proprio in un momento come questo che stiamo vivendo dell'allontanarsi, di non avere nessun contatto fisico addirittura tante volte quasi mentale perché ormai siamo inscenati e obbligati e coatti a pensare inquadrati tutti in un modo, noi ci vogliamo dissociare, noi vogliamo abbracciare l'arte noi vogliamo abbracciare l'amore, infatti consentitemi di ricordare il titolo di questa manifestazione che come dicevo poc'anzi andrà in scena giovedì 17 settembre alle ore 19 proprio qui a Piazza Verga il titolo è trasversale così come abbiamo voluto, amo re trattino amo te quello che vorrei spiegare è la missione che ha l'arte che porta avanti un artista l'arte non cerca visibilità, l'arte si pone il quesito di mandare un messaggio gli alberi, gli alberi lo ritorno a dire a volte noi vediamo che in tutto il mondo decapitano gli alberi e questo fatto passa quasi come una cosa normale è invece un crimine, la natura è un tutt'uno ma re natura con noi quindi se noi sottovalutiamo i benefici che inconsciamente, involontariamente il pianeta ci dona giorno dopo giorno è inutile che parliamo di divisione di allontanamento sociale, di mascherina, dobbiamo tornare ad abbracciare la natura grazie a tutti grazie a tutti